Che cosa guardi, eh? Che cosa guardi? Mi stai sfogliando con gli occhi? Poverino, non puoi farne a meno. Ti batte il cuore, ti gira la testa. Sei persa pensando che sarò tua per sempre. La Fiat 500 Abarth. Non ti ricordi mai la prima volta che vedi uno. Che cosa guardi? Che cosa guardi? Che cosa guardi? Che cosa guardi? Grazie a tutti.